Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato al telegiornale. Parliamo ovviamente di coronavirus. Nel tardo pomeriggio di oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia. Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica, lo ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel briefing da Ginevra sull'epidemia da coronavirus. E ha aggiunto la parola pandemia non può essere usata con leggerezza perché può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così, ha proseguito. Descrivere la situazione come pandemia non cambia, cosa fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità e cosa i Paesi devono fare. Ha sottolineato che si tratta della prima pandemia causata da un coronavirus. Nei prossimi mesi, ha aggiunto al direttore generale dell'OMS, ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più. Siamo in questa situazione assieme, ha aggiunto, e abbiamo bisogno di agire con calma per fare la cosa più giusta, ha affermato. Il direttore generale ha ringraziato l'Italia, la Corea del Sud e l'Iran per le misure adottate. Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia. Speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni. Ha concluso. Adesso invece continuiamo ovviamente a rimanere su questo argomento, ma sentiamo i dati che riguardano il Veneto, che registra 110 nuovi casi di positività al virus, che portano il totale a 1023 unità. Lo ha spiegato l'ultimo report della Regione Veneto. In aumento purtroppo anche le vittime, che sono salite a 29, tre in più rispetto a ieri, due pazienti morti all'ospedale di Padova e uno a Treviso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 68, una in meno rispetto a martedì. Per il cluster di Voh, il primo focolaio nella Regione, nessun nuovo positivo. E di oggi la notizia anche che è deceduto il secondo contagiato in Veneto, l'uomo di Voh, l'uomo che era amico di Adriano Trevisan, la prima vittima per coronavirus in Italia. Sentiamo. È morto anche il secondo contagiato di Voh, la zona dove è iniziata la diffusione del virus in Veneto. L'uomo che era stato ricoverato assieme alla prima vittima di questa terribile emergenza, Renato Turetta, aveva 67 anni ed era l'amico di Adriano Trevisan, la prima vittima a Veneta. Renato Turetta era ricoverato all'ospedale da alcune settimane. Sono state settimane difficilissime, nelle quali i sanitari hanno tentato l'impossibile per salvarlo, ma è stato inutile. Ed è morto anche un altro signore contagiato. Si tratta di un 83enne di San Giorgio in Bosco, provincia di Padova. Faceva l'imprenditore agricolo e sembra che non fosse sofferente di particolari patologie. I dati, purtroppo, per quel che riguarda il Veneto, continuano ad aumentare. Si rende fondamentale che le persone comprendano l'importanza di evitare i contatti al fine di contenere i contagi. Ricordiamo i numeri a disposizione dei cittadini per ricevere informazioni sanitarie. 1.500 oppure 800 462 340. Intanto, sulle strade, le forze dell'ordine stanno continuando a vigilare e fermare le persone alle quali viene chiesta la certificazione sul motivo del loro spostamento. Ricordiamo che i moduli che potete tenere in auto con voi sono scaricabili in rete. I motivi degli spostamenti devono essere giustificati solo per motivi inderogabili di lavoro e di salute. E in Italia i contagiati sforano quota 10.000 e dalla regione del nord arriva un appello per misure ancora più drastiche di chiusura. A Codogno non ci sono stati più contagi ed è la prima volta, quindi l'isolamento, se seguito da tutti, porta a dei risultati. E il presidente Zaia oggi ha lanciato un appello a tutti i cittadini, affermando ancora una volta che bisogna stare a casa. Sentiamo. I sindaci di tutti i comuni italiani continuano a ripetere alle persone di rimanere in casa. Purtroppo c'è ancora chi non comprende l'emergenza che stiamo vivendo. Sono soggetti che stanno sottovalutando il rischio che ognuno di noi sta correndo. E Luca Zaia ha lanciato l'ennesimo appello. Abbiamo 1023 persone positive al momento, 262 ricoverate e 75 in terapia intensiva, 54 dimessi e 29 decessi. Voglio fare una comunicazione ai Veneti, afferma il presidente della Regione Veneto. Dovete capire che dovete rimanere a casa. La prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che tra cinque giorni avremo il picco delle terapie intensive e ci dicono che se continuiamo a non rispettare le regole, il 15 aprile avremo 2 milioni di Veneti contagiati. Dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Il personale sanitario tutto sta dimostrando una grandissima capacità e devozione in un momento di grande emergenza. A tutti loro vanno i complimenti, i ringraziamenti da parte di tutti. Poi ci sono anche dei casi di dimostrazioni effettive, tangibili da parte dei cittadini. Orgogliosi di voi, grazie. Sono le parole scritte in uno striscione che è comparso stamattina all'ingresso dell'ospedale di Conegliano. A raccontarlo è Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss2 della marca trevigiana. Benazzi ha detto che sono commosso per quello che sta facendo tutto il nostro personale, così come per l'immenso sostegno che ci sta dando il nostro territorio. E ha detto che anche quando mi hanno mandato la foto non sono riuscito a trattenere le lacrime. E ovviamente è in atto anche un'emergenza economica e come era stato preannunciato anche in questo contesto il governo ha assicurato vicinanza a imprenditori, famiglie e partite IVA. Stanziata una somma straordinaria di 25 miliardi di euro da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di questa emergenza. Sentiamo il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei Ministri. Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza. 25 miliardi significa quindi 25 miliardi di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per questa emergenza che, come ho sempre dichiarato, sia sanitaria sia economica e ha chiaramente un importante impatto sociale. E ci sono state grandi aperture sulle nostre richieste. C'è in particolare la consapevolezza, abbiamo deliberato, di dover condividere informazioni per essere ancora più efficaci nel contrasto al contagio e alla diffusione del virus. Abbiamo anche concordato sulla necessità di lavorare per creare un coordinamento per fornire e rendere i nostri rispettivi sistemi nazionali sanitari ancora più efficienti nelle risposte. Lavoreremo anche in coordinamento, manderemo quindi dei nostri scienziati e esperti per creare una task force europea per poter anche promuovere la ricerca per combattere più efficacemente questo virus ancora ignoto e inoltre grande apertura per quanto riguarda le conseguenze, per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche. C'era anche in collegamento la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, era anche in collegamento la Presidente della BCE, Christine Lagarde. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessario una maggiore liquidità, è necessario adottare misure e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordiamento europeo ha a disposizione per far fronte, finanziari, economici, sociali, per far fronte a questa emergenza. E una profonda e intensa igienizzazione delle strade e dei marciapiedi avverrà a Padova nella giornata di domani. È stata disposta dal Sindaco che ringrazia molto il gruppo ERA per questa pronta e immediata disponibilità. In questo caso non farà certo male, spiega il Sindaco di Padova, una profonda pulizia intensiva di strade, marciapiedi e zone pedonali con prodotti specifici di una nuova introduzione e menzionati anche nei documenti ufficiali delle autorità competenti come dotati di efficacia. E adesso ci occupiamo di un altro fatto di cronaca avvenuto questa mattina in provincia di Vicenza. Un incendio è scoppiato all'esterno di un'abitazione, anche se le fiamme poi sono entrate, divorando parte della cucina. C'è stata anche un'esplosione, tantissima la paura, fortunatamente, però non ci sono stati feriti. Guardate. A San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Vicenza, è scoppiato un incendio in un porticato. A Rogo è seguita anche l'esplosione di una bombola di GPL. È accaduto in via Gioacchino Rossini. Il porticato, divorato dalle fiamme, attigua ad un'abitazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Castelfranco, Treviso e Bassano del Grappa, arrivati con due autopompe, due autobotti e dieci operatori, hanno spento il fuoco del porticato e del locale cucina del piano terra della casa. Lo scoppio della bombola ha provocato la rottura dei vetri di un vicino cappannone. Subito dopo lo spegnimento del fuoco è stata avviata la bonifica dei luoghi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E siamo arrivati al termine di questa edizione del Telegiornale. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.